Quattro minuti e ventisei secondi da giocare nel primo quarto, ottimo passaggio centrale con la sospensione, attacca ancora il Falco con Coach Milicicci che ha mandato dentro Mabor visto la pallina in due, ci riprova da tre punti con esito. I ungheresi giocano l'interno dell'aria, hanno attaccato con due tiri da tre punti, però sono andati in difficoltà perché anche Napoli riesce a fermare le loro penetrazioni costringendo il tiro della lunga adesso. In palleggio di Peri contro Mabor dopo un cambio difensivo, ancora la guardia contro il lungo, prova a forzare, cade Mabor dalla media, tutto facile per... è sempre Falco ad avere il vantaggio, passo a incrocio, fa saltare l'avversario Peri e va a realizzare... E' una delle candidate a essere tra le prime tre squadre del campionato. Prova lo split passando tra due difensori, arresto e tiro, tutto pulito quello che fa Perle. Il blocco, ancora il tiro da tre punti, che canestro nonostante... Supero, normale, ce lo dirà solo il tempo, ma è un giocatore di quelli che lascia proprio ben sperare. E già nella metà campo offensiva il Falco, 4.57 da giocare nel secondo quarto, tira piazzato dall'angolo che sfavorisce una guardia di Brindisi. Morris giù sulle gambe, scivola bene contro Perle, usa il perno, giro e tiro. Che giocatore! Perle punta a Johnson, serie di finte, usa il perno, vuole forzare l'uno contro uno, va a realizzare. Tiro col rimbalzo di Morris sul lato sinistro, c'è Risma, perde il pallone Morris con la schiacciata di Perle. Perle contro Johnson dopo un cambio difensivo. Perle va dentro, fa saltare l'avversario, l'alza la parabola e realizza Perle contro la Quintana, 4 secondi, viene chiamato il tempo. La Quintana tenta gli scivolamenti, il tiro di Johnson Perle, incredibile cosa ha inventato. Nuovamente per il numero 9, Perle che ha dei punti nascritti, 20 sino ad ora, penetrazione, contro tempo, bravo, ancora nuovamente per Perle che punta l'avversario dopo un cambio difensivo. Perle contro Laseschi, c'è poco da fare, è forte, è forte, completo nei movimenti. Il palleggio di Perle si cerca di portare spazio al giocatore che va fino in fondo, sono 26. Il palleggio di Perle si cerca di portare spazio al giocatore.